Il signor Dawson si è unito a noi dalla terza classe. Ha prestato soccorso alla mia fidanzata ieri sera. Ho scoperto che il signor Dawson è un ottimo artista. Oggi è stato così gentile da mostrarmi alcuni suoi disegni. Rosie, io abbiamo idee divergenti riguardo alla definizione di belle arti. Con questo non voglio certo criticare i suoi disegni. Resta. Il suo sangue e la sua angola solo su questa nave può anche darsi gassemia sulla carta... Queste posate sono tutte per me. Comincia sempre dall'esterno. Conosce questa nave lamiera per lamiera, dico bene. La sua nave è una meraviglia, signor Andrew, sta bene. Grazie. Come preferisce il caviale, signor? No, niente caviante. Grazie. Non mi è mai piaciuto molto. Dov'è che vive esattamente, signor Dawson? Beh, al momento il mio indirizzo è la terza classe del Titanic. Dopodiché sarò nelle mani di Dio. E dove trova i mezzi per viaggiare? Mi sposto di luogo in luogo lavorando. Prediligo le navi da carico, carretti e signori. Ma il biglietto per il Titanic l'ho vinto con una mano fortunata a poche. Una mano molto fortunata.